Che anno è arrivato? Questa è la busta di Francesca Oddio! Già hai letto? Piano caro! Ma scusa, guarda! Thomas, Thomas, guarda questo! Oddio! Ma non te ne mangiare queste cartoline? Ma che è, ciocchino? Guarda, guarda! Guarda! Che cosa vuoi? Sono qui i cartolini che regalo, qui ho! Che c'è? In questo caso non credo, nonna! Ti voglio, che c'è? Togliti di mezzo! Ma? Quello che si era detto! 50 euro! Infinito! E questo fanno parte di 100 euro! Sì, sì! E poi me ne rimangono 25! Tanti, tanti, tanti! Ma proprio tanti! Sitto un po', leggi un po', ricomincia da capo! Allora, questo volevo dire! Hai detto a me! Un altro compleanno di dato? Ah, qualcuno me le fa leggere! Un altro compleanno di dato? È arrivato? Ah, bene! Ti voglio infinitamente bene! Ma... Poi non ho capito che c'è scritto! Aiutalo, Jen! Allora, non ho ancora il cartone! Ma poi io, bene, infinito! Baci nonna! Poi c'è scritto anche quest'altra parte! Tanti, tanti, tanti! Ha compri tanti! Ti amo, è il mio grandissimo cuore! È il mio principino! Amore, te lo guardo! Ma solo bene, te vuole! Non te ama! Guarda, guarda, cosa ho scritto! È nipote speciale della donna! Baci e... Anna, che c'è scritto? Cosa? P.S. Ho scritto! P.S. Ah, sì, va bene! Finalmente è arrivato! È... A... Poi c'è il braccio, in da nonna! Questo è per Thomas! Thomas e Leonardo! C'è là da zio Jeffrey, Melissa e Margot! Perché a me non mi ha arrivato! Ma siamo da quella! Eh, iniziamo da quella! Come no, questo che so! Questo è da zio Jeffrey, Melissa e Margot a Thomas! Aspetta, stavo parlando di niente! Ok! Vai, fate fare la bella... Aspetta, aspetta, vorrei leggere io quello di Francesca! Quello di Francesca pure! Eh, mica c'è solo la nonna! C'è pure quella di Leonardo e Thomas, di Melissa e Margot! Vediamo, poi c'è Spider-Man! Cazzo! Aspetta! Quanto mi sta simpatico questo! Vediamo, 20 euro! Oddio, mi ha volato 20 euro! Eh, dai! Eh, 12 gennaio 2010! Grazie! Grazie! Francesca, grazie! 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 Bacetto, 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 bacetto! C'è di... Eh, io non fa rica! Allora, learsi! Eh, dopo lo fa! Dopo lo fa, dai! Dopo lo fa! Non compre anno! Non compre anno! Non compre anno! Cosa? Ma le altre... Ah, mancano le altre! Quanto ci sono le applicazioni di... Perché non va a dare con le regali? Aspetta, te ne ho a dare con le regali! Non compre anno! Non sono attaccate le regali! Sì, va bene! Con affetto! Allora, questo è per... Io, io, io... È per me! C'è scritto Thomas! È per me! È da parte di... È da parte di Melissa, Margot e Cio Jeffrey! Sì, è scritto! È scritto! Scusa, no! Dietro! Attenzione! Non rovesciare le cose! Scusa, no! Scusa, no! Scusa, no! Scusa, no! Che bello! Ma io... Ma questo è Leonardo! Ma è tuo, è tuo, è tuo! Sto a far video! Eh, lo sto bruciando perché... Ah, aspetta, perché? Questo è da Cio Jeffrey, da Melissa e da Margot, per Thomas! Mmm, bello! Aprilo, aprilo! Allora, vieni! Apri! Sta facendo le foto, tuo padre! No, sta facendo video! È video! Wow! È Cashmine! Che figo che sei! Non credo che sia! Dai, aspetta, che lo prendi nonna! È Lala! È Lala! È buona Lala! È Lala, ma buona Lala! Thomas, non è Cashmine! La ferpa è più bella, qua! Questa se la mettiamo subito! Tutte e due! Mette da qua! No, queste sono perfette perché... Metti, te la metti! No, la metto tanto! Quella no! No! Tutte e due sono belle, dai! Mento tanto! Poggia! E queste sono grandi, vanno bene per vedere un prossimo! Meglio! Vediamo che non mica si prenderanno! Quando mai? Io non perdo niente! È proprio una vera fortuna! Cioè... Che è vero! Non perdo niente! Cioè... La ricetta di Leonardo che vuol dire? Che qualche volta accade o... Non lo so... Voglierai far più andare! Voglierai sapere! Che non è ampiae! Che vestiti? Che vestiti non è bello! E se... Dai, prendi l'altro! Senti, Tomas! Niente da io! Questo lo conservo! Grazie, arrivederci! Che ce le devi fare? Si asciugamani quelli! Prendi l'altro! Si asciugamani per culo! Così io li metti dentro quella roba! Sono infiniti! Ci sono altre regali! Cioè... Mi fermati! Una mano per ultimo! Questo è di Leonardo! No, è di Tomas! Questo è sempre di Tomas! Aveva quelli dei regali, Tomas! Sì! Qua mi ha sforato! Sempre da Giorgio! E la Melissa! E la Melissa! Sempre un marshmallow! Sì! E la prima cartolina! La cartolina! Prima la cartolina! Tiè! Tagliata la mura! No, però... Ho preso l'Ottoppo! C'è presente quello? Non è... Cioè, nemmeno che dà l'Ottoppo! Certo! Manca il caffè se siamo presi, eh! Oh, esatto! Volevo solo farti gli auguri! Di? Di? Punto interroga di Dio! Buon compleanno! Buon compleanno da Melissa, Margot e Cio Giorgio! Tanti baci, 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 baci! Grazie! Ti abbascia a Melissa sulla guancia! No, sulla bocca! Con la nip! Che cosa sono questi pensieri? Adesso non dà neanche il bacio! Mi baci sulla guancia! Mi baci sulla guancia! Mi baci sulla guancia! Mi baci sulla guancia! Mi baci perché l'ha scritta lei la cartolina! L'ha scritta lei! Allora, fai così! Mettici la cartolina sulla guancia e poi dagli un bacio! No! Un bacino sulla guancia! Una del qua e una del là! Qui! Forza! Dai! Ma dai! Ma dai! Eeeh! 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 Mi ha toccato! Ah, deve aprire il regalo! E chi è? Se l'ha toccata? No, non l'ha toccata! Gli ha dato una musata! Che ha dato una capocciata! Che ha dato una capocciata! Un meglio per lei! Piano! Attenzione! Attenzione! C'è bombe! C'è bombe! C'è... E' esclusivamente da uoco! Mi fanno roba da donna! No, no! E' bello! E' da mamma! Ma che è? Moncler! Eeeh! No! E' un giubbetto! A me sembra uoco più che... E' blu scuro! E' blu scuro! Questa è la moda! Ma che è? Moncler! Non lo so! Mamma, passa! Tira, 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 tira! Non abbiamo finito! Dato una calmata perché davvero tu... Ecco! E' una media! No! Ho chiesto se era un Moncler! No che taglia fosse! Non è un Moncler! Era un giubbetto! Io... Ha pensato in bancarelle? No! Non credo proprio! Non credo proprio! Nemme! Guarda! Se puoi sapere di dov'è! Vedi la bussa nera? E c'hai un grizzo! Ma c'è un mio! Dopo gli telefonavo! No! Passa di qua! Guardi sul giubbotto e la bussa! Ma che recentemente entrara una signora tra cagnotta ha preso un giubbotto! Questa? E' mio! E' mio! Sempre di... No! Per Leonardo! E andiamo! Perfetto! 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 Era... Era molto insegnato! Ah così la rubi! Eh! Non so prima! Non so prima! Leggi! E' il tuo... No! Guarda! La metto... La vedo soltanto! E bacia sulla guancia! Aspetta aspetta! Ma questa è quella dell'anno scorso! Ma mia! E' la stessa dell'anno scorso! Si è la luce! Eh beh! Si è la luce! No no! Tu non andate! Sei un blocco! No no! Ne prendo un blocco! E' che le leggo! Mi piacciono quello che c'è scritto e le compro! Eh ma dove stai che è quella dell'anno scorso? legge quello che c'è scritto dentro che l'hanno scritto adesso allora buon compilano meli margot e se già prima ma è proprio a busta oro a bussa la data 2013 veramente quello è uno scorso che io ho arrivato a chi è la festa che volevi 150 euro guarda se ce l'hai pure pure tanto è spirituoso lei non rifiuto tu compare mio tra tra tricche e tracche mi siete proprio morire quest'anno è andata e allora dove hai chiesto sinceramente non la volevo so dire che dopo la devo ripiegare beh ci entro no oddio ma è gigante perché ne sei piccolo è la ma quella va grossa pure a me oh ma che davvero è una m ma hai presa m per gigante no è quella è la casa che fa chi è ma che sa da dio ma quella c'è un errore di etichettatura può essere ma pensa l'xl che fai la tenda la porta alla porta che io devo prende la s scusa io se devo prende la s se la m le fanno quasi grandi queste asciugamani le ricariamo le apri io tanto lui non le vuole questo da chi è per me per me dai vediamo arriviamo al club ho fatto un aeroplano con i soldi ok tanto io le prendo nei negozi per cui a me me li cambiano vero me li vedono loro prendono da fragolina dal negozio di troppo quei 20 euro appoggiali la dietro a te questo prendiamo una s sott'ardio buddha la si potrà pure quell'arancio che non è buddha che mezza tutta sta carta fa la fine del telecomando quando ha lettingla guarda vedendo però le ero 2 soldi ora l'inverno passiamo mi la do lui non cresce più è la legge è la 10 4 ma vedo le cambio come cresce più ormai che sta grande non cresce più tra la differenza tra problema ma io guardo adesso e basso eh sì però di taglia sta portando la taglia di un uomo 20 euro ho detto mettili là non hai capito ancora non è Buddha ancora non è Buddha chi è buscato là è pieno della fertilità così là dopo mi pio io è mio allora questo per chi è? per Thomas per me dalla parte di? dalla parte di? di papà nonna mamma ma c'è che d'oro veramente 10 metri un regalo speriamo che ti piace che è la rosa all'otto perché se non ti piace me lo prendo io non lo prendo io la rida me è so me pure che prima mi hai stupato queste robe tecnologiche e per questo io li no secondo me asciugamanno è una cosa tecnologica già l'ha detto ancora un altro allora stai zitto ma guardate questa ho detto io ma che è? faccio una ronata ah quindi dove va dai edo guarda pure la rida la so aspettare e tu ci metti un sacco di tempo è super chiuso questa cosa beh se no piava freddo si risiravano tutti la asciugamani no voglio un coltello un coltello un coltello lasciate glielo fa lui almeno allora questa la cambio la più piccola con S questa è una M ha detto che è grande che ne so guardarla attenta tirate indietro t'accetta attento e tanto con tutti i cortelli tagliano attenta le mani questo lo tagliano cifra spegni giù spegni cercare un buio quello che c'è sotto si ma così voglio tagliare la cosa sotto spegni spegni ma infilalo qui sotto e tiralo su no che stai facendo? ma io io aprirla solo e lascialo va bene no eh ma io sto solo vai basta dall'altra parte così tagliate dall'altra parte se saranno sbagliate e via il facco evidentemente no infatti è un pacco sbagliato ok ma io non mi sembra sbagliato no è un pacco sbagliato che gli hai fatto? un cartaglio no no guardi un cartaglio è una scatola vuota è una scatola vuota l'avete esagerato lo scotch è qua avete finito tre burro di quelli grandi ci devi pensare gli asciugavano lui gli asciugavano Thomas spondi tutto quello del cellulio madonna davvero che ci ha messo tutto questo è il metodo di papà è che ci ha messo tutto questo scotch te lo devi faticare mica se lo devi guadagnare piano attenta al viso di margherita se ne frega dai che ce la puoi fare dai che ce la puoi fare hai esagerato veramente questo scotch l'ha fatta apposta non hai capito secondo me ora c'è un altro roto dentro c'è un'altra scatola si davvero c'è un'altra scatola pure davvero e vabbè la quanti mai c'è una scatola dentro una scatola dentro una scatola dentro la scatola l'altra scatola cosa siamo a fare toglie si te lo l'avevo detto io l'avevo detto ignorante dai controlla il linguaggio ma non come si apre serve sempre il cortello si ho visto Thomas cerchi di non rompere quello che c'è dentro mi fa vedere la scatola no si sono sbagliati gira un po' to verso l'onna ma l'S2 o l'S3 scusa 2 S3 pure c'è ah beh guarda questo è S3 questo qui si va bene S1 ma è in coppia S3 S3 S2 S1 abbiamo la famiglia delle S vabbè fatto questo quest'anno è chiuso ci stanno tanti asciugamanini dentro piccolini piccolini guarda e vola tutto tanto Marco che ti rompi la catenina questo è bello comunque secondo me lo userà solo per giocare ti piace? infatti lui lo usa come tablet non è che lo usa come cellulare di sicuro ce l'avrà sempre acceso a differenza tua è carico è carico guarda che ce l'ho acceso ma certo non te eccita rimani tranquillo guarda è a carico non ci dobbiamo sbagliare è già carico? è già carico? non lo so penso di sì un po' sì attaccatemi eh? mi fa pressione io ti faccio pressione ma è così buh buh ma che ti dici? perché cerco il contatto fisico no ma non fare troll face per favore io non lo faccio sembro il maniaco sembra un maniaco aspetta la voglio fare pure la foto ora sto a fare video vabbè fatemi una foto dopo te la provo ma quella è gigante dopo te la provo perché se te ne mani lenta però di lunghezza vi va bene è meglio che mi va cioè guarda che pure questa bianca che ho fatto mi sembrava più grosso dai accenni ma ma sono finiti i regali? sono quando fai? io mi ritiro eh eh è russidino mi ritiro anche io ma io mi ritiro c'è la stessa cosa sua eh e mi hai capito per questo ce l'ha lui? se ne possiamo avere questo qua è il quattro orecchie questo qua è il quattro orecchie questo qua è il quattro orecchie e tu fate il quattro orecchie io c'è il mio però quello è nuovo basta che funziona vuoi mettere i capi dentro le scatole rimetti tutto preciso fino a quando non ti serve no quello da alimentatore tiro fuori tanto quello lo dovrai caricare sì infatti scarico guarda io le vi dà 5 minuti per caricare i gas poi ce le vi dà ma no ma una mezza batteria già c'è no mezza batteria c'è io riscamo vabbè saluta che finisco il video dai saluta ciao ciao metti su youtube di ciao e tanti auguri a me ciao e auguri sono il tanto a me eh ma guarda qua quando lo dici ma se le frega non c'è il senso di mano infatti infatti ma ti sento